Io sono prodiga di mezzi. 16 luglio 1974. Figli di Letti a me tanto cari, sia pace e gioia i vostri cuori. Sono la regina del cielo che, apparendo sul monte Carmelo al santo monaco Simone, donavo un pegno di santità e di salvezza in quell'abitino benedetto, che desideravo fosse indossato da tutti i fedeli cristiani. Voi siete venuti per onorarmi ed avete voluto felicitarvi per la festa onomastica della vostra mamma spirituale, ed io gioisco con voi, e mi unisco a voi nel presentarle auguri di santità, di felicità e di salute. Desidero però, questi auguri, estenderli a tutti coloro che, essendo particolarmente devoti alla Madonna del Carmine, godono di portare sul proprio corpo un segno distintivo di tale devozione. Sempre le mamme sono premurose di dare ai figli qualche cosa che serva a ricordarle, e che sia come un segno prezioso che serva a preservarli dai pericoli. Io sono una mamma vera, ecco perché lungo i secoli andai sempre donando ai miei figli qualche oggetto, che dovesse essere un richiamo alle verità della fede, oppure che avesse a ricordare loro la mia potenza e il desiderio che ho di favorirli con grazie divine. E che pensate quando mi guardate con le braccia aperte e con le mani che emanano raggi luminosi, se non che io vi aspetto accanto a me per ricolmarvi di grazie? E quando vi offro una corona, che cosa pensate se non che vi attendo nel cielo per coronarvi di gloria? Se poi volete sapere che cosa volevo significare con quell'abitino donato a Simone Stock, ecco che ve lo spiego. Volevo che gli uomini tutti, praticando la castità secondo il proprio stato e vestendo il proprio corpo dell'abito della penitenza, potessero conservare la grazia e con la mia protezione arrivare felicemente al Paradiso. È l'ansia di vedervi tutti salvi che mi fa essere prodiga di mezzi, che sembrano puerili ai sapienti della terra, ma che nella mia mente e per grazia di Dio, hanno una potenza prodigiosa così da essere mezzi efficaci di salvezza. Ora gli uomini rifiutano quasi al completo questi doni, ed io intervengo ancora e ne faccio altri. Adopero altri mezzi, altri strumenti, e mi faccio io stessa presente per rivolgervi la mia parola. Questa deve essere il mio richiamo. Che varrebbe che una mamma facesse dei doni preziosi se fossero relegati in un cassetto? Che varrebbe che la mamma offrisse i doni d'amore del suo cuore se i figli li rifiutassero? Ecco perché godo che veniate qui, e qualunque sia il motivo che vi riunisce, io vi rivolgo i miei insegnamenti, che devono essere come le perle preziose di cui la mamma orna la propria figlia. Siete anime a me care, che io vado crescendo giorno per giorno per prepararvi all'incontro col re. Siate orgogliose di lasciarvi ornare e guidare. Fate che nessuna di queste perle vada perduta. Come promettevo a Simone che chi avrebbe portato l'abitino si sarebbe salvato. Come promettevo a Domenico molte grazie con la recita del rosario e a Lucia, a Giacinta e da Francesco la salvezza eterna mediante la recita del rosario. Così prometto a voi che, se farete tesoro dei miei insegnamenti, raggiungerete la perfezione e grande santità. Siate fedeli ai vostri raduni, e non allontanatevi se non per vera necessità. A chi mi prega assiduamente e fedelmente in questo luogo, prometto anche la salute fisica, specie agli uomini che, dopo essersi messi in grazia di Dio, verranno qui ad onorarmi. Ed ora vi benedico tutti, e vi prometto di dare molto sollievo alle anime dei vostri cari che sono ancora in purgatorio. La regina del Carmelo è come quella bianca nuvoletta che, sciogliendosi in una pioggia ristoratrice, va a sollevare le anime sante che aspettano di librarsi verso il cielo della gloria, ed io godo di compiere questa liberazione. Vorrei dare a tutti un fiore a significare la mia riconoscenza per ciò che fate qui e altrove. Vi basti che vi riempia il cuore d'amore, così da renderlo una culla tiepida e candida per il mio bambino Gesù. Arrivederci, figli! Il Monte Carmelo sia un richiamo per voi, ad elevare i pensieri ed affetti fino a raggiungere le altezze più impensate.